Ho qui due cravatte Hermes in seta e le trasformeremo in una Nike Air Force 1. Da una cravatta riesco a ricavare poco materiale, quindi dovrò stare attento a non commettere alcun errore. Ho rinforzato la seta per renderla bella resistente e con questi occhiali d'acciaio non si sfilaccerà quando metterò i lacci. Le cravate me le ha mandate un mio cliente e non so quanto abbia speso, se voi lo sapete scrivetelo in commenti. Sicuramente non poco. Bene, la tomaia è quasi finita, adesso manca la suola. La suola ce la recuperiamo da queste Air Force. Adesso non ci resta che mettere un po' di colla e attaccare la suola. Nel frattempo fatemi sapere cosa dovrei provare a trasformare in una scarpa la prossima volta. Sbizzarritevi con le proposte. Bene, ho messo la suola, adesso la andiamo a pressare e le scarpe sono finite. Ecco qui il paio completo, fatemi sapere che ne pensate e guardate la linguetta. Ho recuperato l'etichetta Hermes e l'ho usata come passalacci. E ora seguimi.